Il Giro d'Italia femminile 2023 si è chiuso oggi a Olbia con una splendida vittoria di Chiara Consonni che proprio come un anno fa ha conquistato l'ultima tappa, oggi ha battuto Marianne Voss e la corsa si è chiusa con la vittoria in classifica di Annemiek Van Vloyden davanti a Giuliette Labusa, Gaia Realini ottima terza, ma per tutto questo vi rimando agli ottimi reportage e commenti di Giovanni Valenzasca su cicloweb.it io invece oggi voglio usare questo spazio video per un personale sentito e grato omaggio a Marta Bastianelli che oggi lascia il ciclismo pedalato, la 36enne laziale ha chiuso, oggi ha fatto un saluto anche dal palco della partenza piuttosto commossa Chiara Consonni, sua compagnia di squadra, le ha dedicato la vittoria insomma Marta Bastianelli è una di quelle atlete che sapete quando si dice ciclismo d'altri tempi ecco è un modo di dire che a me fa accapponare la pelle quando lo sento perché è sempre molto retrivo però tra le donne in realtà il ciclismo d'altri tempi è il ciclismo di 10 anni fa perché veramente tra le donne l'arrivo del World Tour, del Women's World Tour ha rappresentato una rivoluzione copernicana e quindi il gruppo è pieno di ragazze che hanno cominciato a pedalare in un ciclismo d'altri tempi cioè quello di 10 anni fa o 15 anni fa, nel caso di Marta o 20 anni fa e che stanno ancora pedalando e stanno chiudendo la carriera invece in un ciclismo finalmente professionalizzato che ha dato loro in questi ultimi anni la meritata visibilità e anche delle soddisfazioni non solo sportive ma finalmente anche economiche io ricordo Marta Bastianelli la prima volta che l'ho vista aveva 20 anni ed era un giro di San Marino in cui noi di ciclo web io e Mario Casaldi facevamo la diretta in flash era una novità assoluta per l'epoca stiamo parlando del 2007 ma ciclo web sapete è sempre stato molto avanti insomma eravamo i primi al mondo e facevamo la diretta con le animazioni con i ciclistini e fornivamo questo servizio al giro di San Marino questa piccola breve gara a tappe e c'era Bastianelli che era uno scriccioletto aveva 20 anni appena leggiadre leggera e si diceva già allora che potesse essere l'antivoss perché lei arrivò seconda, la corsa vinse Marianne Voss che insomma era destinata cioè le si le si prosticava un futuro di dominio come poi in effetti è stato e Bastianelli veniva considerata anche una possibile rivale di Marianne Voss in effetti poi quell'anno 2007 al mondiale di Stoccarda fu proprio Marta che con un'azione nel finale a 15 km alla fine un contropiede solitario mise nel sacco Marianne Voss relegandola al secondo posto e conquistando il titolo iridato prima italiana, prima azzurra dopo Alessandra Cappellotto poi dopo la carriera di Bastianelli è entrata un po' in un tunnel perché lei è passata da una sospensione per una sostanza anoressizzante faceva parte di una che era contenuta in una pomada che lei usava per dimagrire o qualcosa del genere quindi si fece più di un anno di sospensione poi ritornò poi ebbe la gravidanza e le nacque la figlia Clarissa e poi dopo però dopo la gravidanza lei è tornata e in questi ultimi anni in questi ultimi 6, 7, 8 anni la sua carriera ha veramente preso il volo cioè dopo gli esploi giovanili nell'età della maturità lei è riuscita a ottenere dei grandi risultati in particolare nel 2018 vinse il campionato europeo e nel 2019 vinse il Giro delle Fiandre nello stesso giorno vinsero Marta Bastianelli e Alberto Bettioli il Giro delle Fiandre era una giornata indimenticabile per il ciclismo italiano campionessa italiana tappe in varie gare a tappe tra cui anche il Giro d'Italia molte semiclassiche l'ultima vittoria quest'anno l'Essamen a marzo qualche mese fa no in realtà il 28 febbraio insomma che dire una carriera ricca di cose di vicende di alti e bassi di soddisfazioni di delusioni per una ciclista che ha veramente fortemente caratterizzato questi anni del ciclismo italiano questi anni di passaggio da un ciclismo veramente dilettantistico a un ciclismo professionale e lei sempre comunque si è saputa disimpegnare a testa alta con grande capabilità con grande efficacia nelle sue azioni e anche risultando poi un collante all'interno delle squadre in cui ha gareggiato insomma un punto di riferimento per il movimento italiano tuttora ne è prova insomma la grande empatia che abbiamo visto oggi nel finale dopo che Chiara Consolini aveva vinto la chiamata a gran voce Bastia questa è per te questa è per te un grande abbraccio e insomma personaggi Marta Bastianelli un personaggio di quelli che serviranno servono sono serviti e continueranno a essere utili a essere fondamentali nel movimento femminile italiano quindi ci aspettiamo che anche se non pedalerà più in gruppo Bastianelli possa trovare come già è successo da alcune sue colleghe e contemporanee penso per esempio a Giorgia Bronzini o a Giada Borgato possa trovare un ruolo per continuare a stare nel ciclismo come direttore sportivo come commentatore come team manager insomma troverà il modo sicuramente alle capacità per continuare a fare benissimo mi sono dilungato un po' però devo dire che Marta Bastianelli meritava un commiato insomma un po' più approfondito dei soliti tre minuti e rotti ciao a tutti è stato un giro d'Italia insomma tutto sommato molto interessante appuntamento tra 15 giorni col Tour de France